E se vi dicessi che nel 2022, ovvero l'anno che si è appena concluso, ho ricevuto una tredicesima grazie alle mie azioni tramite dividendi? Beh, ovviamente mentirei perché non è così. Ma facciamo un passo alla volta. Ho ricevuto dividendi, sono stati anche a banza elevati, ma ora vi spiego il perché. Ma prima di farvi vedere quanti dividendi ho effettivamente ricevuto nel 2022, vi voglio farvi vedere una cosa. Questo è il grafico che vi mostra quanto è stata la performance dei vari settori all'interno dell'S&P 500. Perché sì, l'S&P 500 ha avuto una performance negativa di circa il 18% nel 2022, ma non tutti i settori sono stati negativi. Come potete vedere, infatti, il settore energy e quello delle utilities hanno avuto performance positive all'interno del 2022. Questo è semplicemente dovuto al fatto che le materie prime all'interno dell'anno 2022 hanno avuto un incremento vertiginoso nei prezzi e questo ha permesso agli estrattori di guadagnare molti più soldi, semplicemente perché la materia prima era salita addirittura per alcune materie prime appunto di 10 volte in praticamente due anni. E io ovviamente ne ho approfittato. Per chi non lo sapesse ho avuto anche in portafoglio Shell che ho deciso di chiudere lo scorso trimestre. Ho avuto in portafoglio Enterprise Product Partners che era un'altra azienda nel settore energy dove ho guadagnato veramente tanti soldi. E la cosa che vi voglio chiedere è, avete piacere che vi porti un video dove andiamo ad analizzare secondo me quali saranno i settori su cui puntare nei prossimi 1-2-3 anni? Fatemelo sapere qua sotto con un commento e con un like. Torniamo al discorso dividendi però. Allora, come potete vedere da questo grafico qua, questi sono stati i dividendi che io ho ricevuto nell'anno 2020 quando avevo appena iniziato ad investire su questo portafoglio qua. Premetto sempre che il portafoglio che vedete è il portafoglio pubblico che ho deciso di aprire in concomitanza con il canale YouTube. Poi ho successivamente altri due portafogli che sono uno mio personale dove investo la maggior parte dei soldi. Oltre a quel conto lì però gestisco altri due conti che sono uno il conto di mio padre e due un conto contestato tra mio padre e un suo amico. E ovviamente quelli sono i conti dove ci sono la maggior parte dei soldi. Perché? Perché non lo sapessi ho 24 anni. So che ne dimostrò di meno ma ho 24 anni. Sul conto che gestisco io per il canale YouTube diciamo ho avuto dividendi nel 2020 per circa 123€. Andiamo a vedere però quali sono stati il 2021 perché come vi ho già detto il portafoglio che gestisco per YouTube lo gestisco tramite piano d'accumulo e investo all'incirca 100€ a settimana. Che sono all'incirca 5200€ l'anno. Quindi ovviamente i dividendi sono in crescita. Infatti nel 2021 ho avuto dividendi per 218€. Questo perché? Tendenzialmente le aziende che ho in portafoglio aumentano i dividendi anno su anno. E il secondo motivo è stato il fatto che ho investito più soldi su altre aziende. Quindi all'aumentare del patrimonio investito aumentano anche teoricamente i dividendi ricevuti. E il terzo motivo che è anche quello che ha influenzato tanto il cambio euro-dollaro. Ora però vi spiego il perché. Andiamo a vedere effettivamente quanti soldi ho ricevuto nel 2022. Nel 2022 ho guadagnato la bellezza di 270€ in dividendi. Vi faccio una premessa. Per chi se lo fosse perso all'incirca qualche settimana fa ho fatto un video in cui vi mostro il mio portafoglio. E per chi non lo sapesse ovviamente il mio portafoglio essendo che ho 24 anni non è un portafoglio di dividendi. Considerate che sul patrimonio investito ho all'incirca un dividend yield dell'1,2%. Capite che ovviamente non è un portafoglio atto a ricevere dividendi. Come potete vedere questo è il grafico dove vi mostro l'andamento dei dividendi anno per anno. E attualmente c'è stato un passaggio da 123€ a 260€. Quindi praticamente un per due in due anni. Non mi aspetto ritmi di crescita così elevati. Però sicuramente un aumento anno su anno del 20-30% ci sarà per i prossimi 4-5 anni. Quindi si arriverà secondo me tranquillamente tra qualche anno ad avere effettivamente una tredicesima sotto forma di dividendi. Vi faccio vedere brevemente che tutti i dati li prendo da 3212 che è semplicemente la piattaforma che utilizzo per gestire il portafoglio che ho per il canale YouTube. Successivamente però li esporto su una piattaforma che si chiama Wallet dove gestisco appunto le mie entrate e le uscite. Ed è lì che ci spostiamo adesso. Su questa piattaforma infatti combaciano le cose. Infatti abbiamo 619,09€ in dividendi su questa piattaforma qua e 619,10€ su quest'altra qua. Ci spostiamo di qua semplicemente perché voglio far vedere quali sono le aziende che mi hanno portato più dividendi. La prima in assoluto penso sia JP Morgan perché ce l'ho praticamente dall'inizio del portafoglio ricevuto 45€ in dividendi. E mi fa piacere anche e soprattutto perché considerando che il dolore si è rafforzato tantissimo negli ultimi due anni sull'euro. Io ricevevo un dividend yield molto più alto rispetto a quello che avrei ricevuto se il tasso di cambio fosse stato un tasso medio. Considerate che il mio tasso medio di cambio è all'incirca a 1,12€ e io l'anno scorso ricevevo magari dei dividendi con un tasso di cambio di 0,97€. E infatti nel 2022 ho anche beneficiato tanto di questa cosa qua. Tant'è che su tante aziende ho guadagnato dei bei dividendi, soprattutto sulle banche che ho io dove guadagno anche tra l'altro tanto. Ho ricevuto dei bei dividendini, infatti ho ricevuto 28$ su Bank of America. Un'altra azienda su cui guadagno tanto sia in termini di performance sia di dividendi è Westrock. Ho guadagnato 44€ anche qua e se voi sommate azione per azione, dividendo per dividendo, vedete che poi alla fine, nei vari anni, la performance cambia tanto anche in relazione al dividendo che ricevete. Altre aziende che mi hanno dato veramente tanti dividendi sono le farmaceutiche, infatti come potete vedere AbbVie che tra l'altro ho chiuso la posizione, per chi non lo sapesse, per chi fosse interessato ho chiuso la posizione. Un'altra azienda farmaceutica su cui ho ricevuto dei bei dividendi è Pfizer, dove ho ricevuto 16,50€ in totale nei due anni. Merck anche ho ricevuto 18€. Vedete che generalmente abbino aziende che rilasciano dei buoni dividendi con aziende in crescita che li rilasciano. Ad esempio Microsoft, Microsoft ce l'ho dall'inizio, ok mi ha dato solo 15€ di dividendi, però sono dividendi che crescono del 15% annuo, quindi in 4-5 anni avete praticamente un per 2 sul dividend yield iniziale. E questo mi fa piacere, anche Apple non ha aumentato tantissimo il dividendo, però ho ricevuto all'incirca 8€. Sono piccolezze per un portafoglio diversificato come il mio, fa tanto la differenza, tant'è che parte delle performance che ha il mio portafoglio deriva anche dal dividendo. E sono sicuro che come vi dicevo prima, entro 3-4 anni i dividendi iniziano ad essere rilevanti non tanto per il portafoglio in sé, perché il portafoglio crescerà, quindi la percentuale di entrata del dividendo sarà più o meno sempre la stessa. Ma iniziano ad incidere sullo mio stipendio da altri lavori, quindi sono contento di questo. Tra l'altro se avete piacere di lasciarmi così nei commenti qual è più o meno il dividendo yield made del vostro portafoglio e quanti dividendi avete ricevuto nello scorso anno o in generale, mi farebbe piacere, giusto per avere un confronto anche con voi. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo comunque sempre di farmi sapere se avete piacere di sapere quali settori secondo me performeranno meglio nel prossimo anno. Detto questo ci becchiamo al prossimo video.